infissi legno alluminio monoblocco ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi gli infissi legno alluminio a monoblocco sono infissi come dice la parola monoblocco che inglobano tutto nello stesso sistema la tapparella magari la zanzariera il cassonetto il sistema di avvolgimento tutto in un unico blocco è un sistema che veniva utilizzato diversi anni fa per cercare di fare grandi quantità e contenere i costi spesso questo tipo di sistema prevedeva il montaggio dei controtelai in lamiera zincata che se hai letto questo blog e guardate un po di video hai capito che è qualcosa che bisogna evitare come la peste perché sono punti termici veramente elevati che creano della muffa della condensa nell'andare degli anni a venire e non sono risolvibili se non chiamando numeratore e spaccando tutto quindi è un tipo di infisso io ti sconsiglio un infisso che diciamo anche brutto da vedere perché solitamente sono fatti tutti dritti la larghezza della finestra e la larghezza del cassonetto sopra molto sporgente molto squadrato con l'avvolgitore che è integrato nella parte del telaio l'avvolgitore è dove passa la cordella per l'avvolgimento perché spesso i monoblocchi essendo un po le cose del passato hanno ancora l'avvolgimento a cordella anche se si possono motorizzare le tapparelle e poi spesso avevano anche l'infisso interno incorporato con la pressione esterna che questi venivano cambiare chiamate monoblocco di tutta la spalletta della casa rivestita in legno ti lascio immaginare il tipo di manutenzione che può avere un intervento fatto di questo tipo se vuoi dei consigli sul tipo di serramento che è meglio utilizzare e acquistare come montarlo il tipo di vetro magari non sei nella zona della romagna dove lavoriamo abitualmente puoi avvalerti del servizio di consulenza con sistema visacchi ti guiderò nella scelta della soluzione migliore e magari anche la scelta del preventivo migliore perché ti posso aiutare a scegliere qual è quello giusto o quello che al quale si possono integrare delle domande e fare qualche altra richiesta se vuoi saperne di più vai su www.blogvisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale